La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo L'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon martedì a tutti ben trovati con l'appuntamento con la nostra rassegna stampa andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani in questa prima parte vediamo tutte le prime pagine partiamo dal mattino nazionale si parla delle pensioni di cittadinanza il titolo di apertura aumenti rinviati al 2020 manovre, i tagli al deficit non convincono l'Europa chieste altre galanzie il Colle avanti con il dialogo Salvini sul caso Francia no a figli e figliastri e le interviste del mattino Cassese, l'autonomia nuova prova dell'egoismo del nord verso il sud ancora la difesa delle rendite spiagge, concessioni prorogate di 15 anni addio alla concorrenza di spalla le idee, l'immagine di Napoli tra feiotonne e carta sporca andiamo a centropagina la polemica VAR e gli arbitri vengono in tv a spiegare decisioni ed errori la polemica sistema da cambiare dopo le ennesime sviste di Serie A è passato un anno dal braccio di Bernardeschi alle spinte di Matuidi e Florenzi ma niente è cambiato quindi ancora polemiche sulle decisioni arbitrali nonostante il VAR cambiamo argomento lasciamo lo sport ci spostiamo di spalla edifici abusivi papà Di Maio sfida il comune Mariglianella il geometra presenta un dossier per evitare gli abbattimenti nel suo terreno vicenda abusi edilizia a Mariglianella nel terreno della famiglia Di Maio Antonio il papà del vice premier Luigi si oppone alle ordinanze comunali di demolizione per quattro manufatti abusivi e per la rimozione dei rifiuti su un terreno in comproprietà con la sorella Giovanna l'inchiesta appalti in Calabria Oliviero indagato sciopero della fame di taglio basso RC Auto la grande truffa delle polizze su internet l'ISVAP chiude più di 100 siti pirati sempre su questa prima pagina del mattino nazionale andiamo nei box in alto vediamo per la cultura la mostra il lusso di Ercolano gli antichi romani tra gioielli e vini pregiati e poi per lo sport invece il calcio giocato parliamo di Europa League ieri i sorteggi sia per la Champions League che per l'Europa League il Napoli dovrà affrontare il Zurigo vediamo Ancelotti o attaccanti che segnano tantissimo basta parlare di Cavani e poi Carmen 93 anni la farmacista più longeva d'Italia ho studiato di nascosto da papà questo il racconto questa è la prima pagina del mattino nazionale andiamo avanti andiamo sulla prima pagina invece del mattino di Salerno vediamo qual è il titolo di apertura per il quotidiano questa mattina vediamo l'economia il dossier processi e furti Zavorra Salerno qualità della vita giustizia lumache sicurezza gli indici neri turismo primi in Campania la provincia al 95esimo posto in Italia risale 10 posizioni ma è scavalcata da Napoli 10 posizioni scalate negli ultimi 12 mesi non sono servite a far uscire Salerno dai bassi fondi della graduatoria sulla qualità della vita forti ritardi nella giustizia decisamente migliore la performance per laureati e turismo andiamo avanti l'analisi il respiro corto delle politiche scaccia crisi e poi l'intervista a Zug Trigel la cultura può salvare i giovani andiamo di spalla la politica regionali 2020 Carfagna frena sulla candidatura spero sia una donna ancora invece nella fotonotizia trasloco alla cittadella stop udienze polemiche chiuse anche le cancellerie ira degli avvocati partono oggi le nuove operazioni di trasloco alla cittadella giudiziaria sospensione immediata di tutte le udienze penali della prima e della seconda sezione da oggi fino al prossimo 6 gennaio e chiusura delle cancellerie delle medesime sezioni per tutto il tempo necessario alle operazioni di trasloco e non oltre il 31 gennaio e questo è il decreto firmato ieri dal presidente del tribunale Pentagallo a mettere nero su bianco il nuovo cronoprogramma per i trasferimenti andiamo di fondo la sanità piano ospedaliero ok dalla regione salvi i punti nascita di Sapri e Polla e ancora tra pianti record festa al comune per il centro di eccellenza centro pagina la tragedia max incidente sulla statale indagato l'amico delle vittime il 18enne guidava l'auto che ha tamponato la Fiat 500 e poi il giallo all'alfano primo studentessi aggredite c'è l'inchiesta patto tra scuole basta intolleranza di taglio basso l'intervento canti preghiera il Natale nel chiostro di San Francesco invece la curiosità il vicequestore con la passione del rally chiudiamo questa prima pagina del mattino di Salerno andando nei box in alto vediamo per lo spettacolo la rassegna Capodanno a Ravello sulle rotte della musica mentre per il calcio si parla della salernitana granata sulla graticola la fiducia è a termine questa è la prima pagina del mattino di Salerno ancora prime pagine questa volta andiamo sulle cronache vediamo il titolo di apertura all'armi sono fascisti oggi l'assemblea all'alfano primo i ragazzi della quinta ci scrivono a cronache basta con questa violenza anticostituzionale una delle studentesse aggredite in ospedale minacciata a luna del sabatino menna continuiamo salvi punti nascita di Polla e Sapri approvato il piano ospedaliero De Luca consegna i documenti al ministro Grillo si va verso l'uscita dal commissariamento e ancora Eboli si è fermata per l'addio a Vincenzo dopo la fiaccolata e i funerali alla chiesa del Sacro Cuore le preghiere di Don Peppino e il dolore degli amici e dei genitori di spalla Salerno dopo la denuncia la ex era stata in albergo con lui scagionato il leghista Cimini a Pagani la mossa del cavallo Gambino tenta la carta di Massimo Donofrio a Capaccio ancora chiesa di San Vito e terreni alla diocesi ma è polemica questi sono i principali argomenti per le cronache andiamo ora sulla città vediamo che anche la città parla dell'esito dell'incontro che si è tenuto ieri tra il ministro al ministero della salute e quindi tra i referenti del ministero il ministro Grillo e la regione Campania con il presidente Vincenzo De Luca arriva all'ok alla nuova proposta di piano ospedaliero dal ministero della salute un nuovo piano ospedaliero che pensa ipotizza per Polla e Sapri idea di primo livello quindi salvi anche i punti nascita e vediamo il titolo per la città sanità c'è il SIA De Luca resa del governo passa al ministero della salute il piano ospedaliero riaprono i punti nascita idea di primo livello per Sapri e Polla Castiello del Movimento 5 Stelle vince il popolo ortopedici nel Vallo di Diano rifiutano di andare nella fotonotizia il gazebo senza autorizzazione a Pagani multato Babbo Natale ancora le operazioni di trasloco andiamo alla cittadella giudiziaria di Salerno tribunale ultime odienze da gennaio e solo cittadella di spalla eboli due indagati per la tragedia stradale e poi qui vediamo le immagini dei due ragazzi il 18enne e il 17enne morti nell'incidente stradale a Baronissi va in fiamma il bus degli universitari all'otto si gioca il 17 ancora Centola Palinuro bancarotta condanna per il fallimento dell'hotel Kings le notizie riportate di fondo al Ruggi disabili a concorso Parcheggio of Limits ancora la politica Carfagna regionali potrò essere in campo ancora la storia Smet prima donna alla guida di un tir di taglio basso l'intervista qualità della vita tutto relativo musile classifiche sulle percezioni che sulla realtà Salerno al 95esimo posto recupera 10 posizioni buone notizie per quanto riguarda la qualità della vita Salerno e provincia secondo la 29esima classifica della qualità della vita stilata da il sole 24 ore Salerno sale al 95esimo posto conquistando così altre 10 posizioni lo storico Aurelio Musi sono classifiche che vertono più su percezioni che poi che non sulla realtà e poi i vecchio e l'arte Marco mio padre Sergio Icona di Libertà questa è la prima pagina della città ora andiamo nelle pagine interne dei quotidiani in particolare andiamo sul mattino parliamo della manovra ancora necessario dialogo per arrivare ad una svolta tra Unione Europea e l'Italia per quanto riguarda la manovra vediamo il titolo su queste pagine di primo piano l'Unione Europea chiarimenti su 3 miliardi ma per conto l'intesa è vicina Salvini e Di Maio non cedono più sul reddito di cittadinanza e pensioni l'Unione niente impegni generici vertice premier tria per limare le misure il rinvio del giudizio ci fa ben sperare gli interventi dell'altra notte hanno aperto un dibattito all'interno della commissione l'incrocio di tabelle e numeri tra Roma e Bruxelles è continuato anche ieri così come il lavoro dei tecnici del MEF chiamati da Conte e Tri a trovare con la commissione quella quadratura del cerchio che ancora non c'è premier titolare dell'economia si sono di nuovo incontrati ieri a Palazzo Chigi in ballo ci sarebbero 3 miliardi di spesa che non convincono più che non convincono scusate tutti i commissari in particolare la ladura che il vice presidente Dombrovskis rappresenta con una certa energia lasciamo questa pagina andiamo avanti andiamo ora invece sulla pagina del focus del mattino si parla della disoccupazione in particolare nel sud Italia vediamo il titolo giovani e disoccupati ecco la polveriera sud dopo la ripresina di due anni fa il divario con il nord aumenta la povertà assoluta più alta d'Italia record di ragazzi che non fanno nulla due anni e sembra che siano passati già in vano il mezzogiorno che aveva rivisto la luce all'alba del 2016 dopo quasi due lustri di decrescita tutt'altro che felice di tassi record di disoccupazione di allarme sociale a tutti gli effetti pare oggi di nuovo a un passo dal baratro scoraggianti le previsioni per il 2019 al sud anche uno 0,1 in meno di crescita come quello che si annuncia per l'immediato futuro si paga doppio in equivocabili scusate gli ultimi dati un giovane su quattro ha un lavoro e nella stragrande maggioranza dei casi nemmeno stabile questa è una parte dell'articolo è una corsa contro il tempo bisogna intervenire il trend invertire il trend prima che gli effetti dello spopolamento siano irreversibili andiamo di taglio basso l'intervista a Sabino Cassese mezzogiorno in condizioni critiche ma il Movimento 5 Stelle ha contenuto il ribellismo nel meridione è mancata la continuità degli interventi prima la cassa poi regioni e Unione Europea il reddito di cittadinanza e come l'aspirina potrà diminuire la febbre senza però curare la malattia il regionalismo differenziato è soltanto l'ultima prova di egoismo da parte del nord e chiudiamo questa pagina andiamo ora sulle pagine di economia lo abbiamo visto anche dalla prima pagina del mattino nazionale il caso delle RC auto e delle polizze false vediamo RC auto il boom delle polizze fake nel 2018 l'Ivas ha bloccato oltre 100 siti online truffaldini a cadere nella trappola sono spesso i giovani e gli immigrati il giro d'affari delle false compagnie è stimato in 3 milioni le offerte più a rischio sono quelle con copertura temporanea il fenomeno è raddoppiato rispetto al 2017 l'ultimo indirizzo bloccato è new assicurazioni e poi di taglio basso spiezia in liquidazione tavolo al mise Ciarambino e Saiello non consentiremo che la nostra terra perda un marchio storico attivo per 110 anni e chiudiamo con la prima pagina del Roma vediamo quali sono i principali argomenti per il Roma Basilicata vediamo innanzitutto la politica in primo piano PD a Roma si perderà altro tempo unica voce fuori dal coro sul Pittella bis sarà il presidente Sant'Arsiero la corazza di Serta l'incontro alle 14 con Orfini con un partito senza segretario sarà solo Melina di taglio alto riesame Pittella dopo le feste potrebbero arrivare oggi a potenza le motivazioni della Cassazione il Tribunale della Libertà dovrà pronunciarsi entro dieci giorni dopo Santo Stefano di taglio basso l'outing di De Filippo al Roma il parlamentare spiega cosa faceva la sorella nella sua stanza da governatore infine qualità della vita il capoluogo sprofonda perse 16 posizioni invece per potenza rispetto a Salerno Lucane a picco pure Mara Matera ha poco da festeggiare e con questa prima pagina del Roma chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa a breve stacco pubblicitario torneremo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa sfogliamo le pagine del quotidiano il mattino del mattino di Salerno in particolare e andiamo proprio sulle pagine di primo piano quelle dedicate all'ultimo dossier agli ultimi dati relativi alla qualità della vita in Italia e come abbiamo visto salgono le posizioni per quanto riguarda la provincia salernitana seppur restano comunque dei deficit e vediamo infatti quali sono i punti essenziali di questa analisi della qualità della vita nella provincia salernitana giustizialente ed SOS furti queste le due zavorre di Salerno al 95esimo posto tra 107 province d'Italia risalite di 10 posizioni scavalcati però da Napoli nel baratro per sicurezza e processi lumaca primi in campagna per il turismo ok i laureati una causa civile dura 671 giorni 220 auto rubate ogni 100.000 abitanti ecco i dati handicap del sole 24 ore le 10 posizioni in classifica scalate negli ultimi 12 mesi non sono servite a far uscire Salerno dai bassi fondi della graduatoria nazionale sulla qualità della vita sul territorio provinciale salernitano continuano a registrarsi forti ritardi nella giustizia un numero di reati ancora sostanzioso che rendono proprio il settore della giustizia quello più penalizzante andiamo avanti sempre su questa pagina di taglio basso l'economia dal basso che resiste al sud e il respiro corto delle politiche anticrisi oltre al ritardo strutturale di redditi e lavoro segnali positivi da cui ricostruire modelli di sviluppo l'indagine annuale del sole 24 ore offre l'occasione non tanto per giocare ai primi e gli ultimi in classifica ma soprattutto per provare ad allargare lo sguardo in termini di complessità delle dinamiche di crescita socio-economica nel caso della provincia di Salerno gli indicatori BES benessere e sostenibile diffusi dall'Istat già lo scorso mese di giugno hanno evidenziato con chiarezza che il problema di fondo si configura nelle distanze con il resto d'Italia ed Europa lasciamo questa pagina e questi argomenti andiamo avanti andiamo ora a parlare invece della sanità lo abbiamo visto anche dalle prime pagine dei quotidiani arriva l'ok dal Ministero della Salute per l'approvazione che approva il nuovo piano ospedaliero presentato dalla Regione Campania per quanto riguarda proprio la sanità campana in questo piano ospedaliero si parla degli ospedali Luigi Curto di Polla e dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri come dea di primo livello e si salvano quindi c'è la possibilità concreta del salvataggio per i punti nascita di questi dei due ospedali che hanno tenuto con il fiato sospeso l'intero territorio e vediamo proprio sulla pagina del mattino ampio spazio a questo incontro tra Ministero e Regione vediamo Grillo De Luca faccia a faccia sul commissario il governatore ha presentato il piano triennale per uscire dall'emergenza il ministro assicura valuteremo attentamente la documentazione perché infatti ieri in occasione proprio della presentazione del piano ospedaliero De Luca ha poi annunciato di aver presentato anche un nuovo piano triennale per il rientro e si punta appunto all'uscita dalla fase di commissariamento a breve sul BURC sarà pubblicato il decreto di 100 pagine con il percorso di risanamento e poi di taglio basso ne abbiamo già parlato salvi punti nascita di Sapri e Polla gioia e duello sui meriti i sindaci grazie al presidente promessa mantenuta ma il Movimento 5 Stelle Castiello attacca come il mago Silvan Lasciamo questa pagina dedicata alla sanità ora andiamo nelle pagine dedicate invece alle notizie in generale della parte sud della provincia di Salerno in particolare sulla pagina della Piana del Sele e del Vallo di Diano in apertura si va a Battipaglia la Villa Romana blocca la cava il Tar bocce il ricorso dell'Inertia di Norfi che aveva chiesto l'intervento della sovrintendenza l'obiettivo era asportare i beni archeologici posti sotto tutela che ostacolano le estrazioni una villa di epoca romana contro l'estrazione di materiale da una delle cave Battipagliesi il Tribunale Amministrativo ha bocciato il ricorso dell'Inertia di Norfi che aveva chiesto l'intervento della sovrintendenza per asportare i beni archeologici posti sotto tutela perché messi in pericolo dall'attività estrattiva l'area interessata da ritrovamento in località Castelluccio dove la società estrae materiali calcarei la sovrintendenza deduceva che era necessario circoscrivere l'area sottoposta a vincolo e realizzare le opere utili e necessarie ai fini della messa in sicurezza inoltre al fine di conoscere la portata dei reperti archeologici la sovrintendenza predisponeva un sopralluogo a seguito di ulteriore sopralluogo è stato accertato che lo stato di pericolo creatosi nell'area vincolata in oggetto è stato determinato dall'attività estrattiva andiamo ad Ascea promette lavoro su yacht preso il re delle truffe mentre di taglio basso a Gropoli Natale senza luce ed eventi protestano i ristoratori cancellato anche il presepe vivente attirava danni migliaia di persone il sindaco si difende aperti all'ascolto a Castellabate invece servizio idrico a Consac la minoranza contesta più costi andiamo di andiamo di spalla scusate sì di spalla incidente shock sindaco accusa quattro ore per i soccorsi trasferita a Eboli per assenza di medici reperibili a Polla è accaduta ad una donna del posto la denuncia del sindaco Giuseppe Rinaldi tra i primi giunti sull'opposto a soccorrere la malcapitata domenica scorsa una donna di circa 50 anni di Montesano è rimasta ferita dopo l'impatto dell'auto sul posto anche i vigi del fuoco di Sala Consiline e gli agenti della municipale la donna in gravi condizioni viene trasportata prima all'ospedale di Polla ma qualcosa non va ed è necessario trasferirla ad Eboli e poi sul proprio merito a quanto accaduto è intervenuto con un lungo post il sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi che ha raccontato la vicenda chiudiamo questa pagina andiamo ora sulle pagine sportive parliamo innanzitutto del calcio dell'Europa League ma ieri ci sono stati sorteggi per il Napoli che incontrerà nei sedicesimi di Europa League la squadra dello Zurigo vediamo la fortuna ci vede bene sedicesimi di Europa League il Napoli pesca lo Zurigo che è 114esimo nella ranking UEFA Ancellotti debuta nella ex Coppa UEFA una squadra italiana non vince dal 1999 vediamo va bene anche all'Inter che trova il Rapid Vienna la Lazio affronta il Siviglia sa arriva a Malmo vediamo l'intervista una squadra spregiudicata non faranno le barricate parla Tramezzani ha allenato in Svizzera attenzione all'estero di Marchesano ieri ci sono stati anche i sorteggi della Champions League la Juventus pesca l'Atletico Madrid mentre per il Roma mentre la Roma dovrà vedersela contro il Porto questo per quanto riguarda i sorteggi di Europa League e di Champions League ora andiamo avanti perché continua la polemica anche per quanto riguarda l'utilizzo del VAR in campo vediamo infatti il titolo su questa pagina ampiamente dedicata all'argomento il VAR sotto attacco c'è la sudditanza parla Cairo presidente del Torino due rigori nel derby guida doveva rivederli preziosi patron del Geno a Roma danneggiati da un arbitro in malafede protocollo da correggere c'è un eccesso di discrezionalità per i direttori di gare ancora la riunione il Consiglio federale decide i format dei campionati di taglio basso invece arriva una bella notizia per quanto riguarda la Formula 1 ma soprattutto per quanto riguarda Schumacher che da ormai diversi anni è a seguito di un incidente bloccato in un letto vediamo il titolo speranze per Schumi non è più attaccato ai macchinari mica il Schumacher non è costretto a letto né ha bisogno di macchinari per rimanere in vita rivelare l'indiscrizione sulla vita del 7 volte iridato di Formula 1 coinvolto in un terribile incidente 5 anni fa che gli provocò gravi danni cerebrali è il quotidiano del Mille che secondo cui l'ex campione mostrerebbe segni di miglioramento le rivelazioni dal quotidiano inglese a 5 anni dall'incidente sulla neve chiudiamo anche questa pagina ora però andiamo a parlare della Salernitana sempre per lo sport sempre per il calcio andiamo quindi in serie B dopo l'ennesima sconfitta della Salernitana vediamo il titolo fiducia a termine tutti sotto esame con l'Antuono traballa parte il toto allenatore ma a rischiare sono anche molti giocatori clima glaciale nel ritiro di San Gregorio Fabiani faccia a faccia con il mister di Anzio fiducia a termine non solo per Stefano Colantuono la panchina del tecnico Scricchiola comunque la sua posizione resta in bilico è pericolante tra balla insomma domenica prossima nel lunch match contro il Foggia alla Rechi potrebbe esserci l'ultima chiamata andiamo di taglio basso e le acrobazie gol da Cineteca voglio solo fare bene il bene della Cavese la rete del giovane attaccante è definita come la più bella della storia bianco-blu sono contento perché ha evitato la sconfitta e con questa pagina dedicata alla Salernitana e allo sport della provincia Salernitana chiudiamo la nostra rassegna stampa io vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro Tg grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti